Buongiorno signori, qui ero Scarzo che vi parla e oggi vi porto, non una decklist ma una serie di tips per costruire il vostro mazzo UA e rendervelo personale. Allora, il mostro principale del mazzo è UA Midfielder, logicamente da giocare in x3 perché oltre a essere un mostro di veloquato facilmente evocabile lo si può far tornare in mano per evocare i gigantoni UA. Poi, logicamente, giocheremo il 3x di UA, lancitore perfetto o perfect ace perché durante turno all'avversario, una volta per turno, puoi scartare una carta per negare l'attivazione di un effetto e distruggere quella carta. Ottima come difesa, direi. Poi abbiamo la tripla copia di UA Mikey Slugger o battitore perfetto. È battitore potente, coglione! Perché è potente questa carta? Perché quando attacca, il tuo avversario non può attivare carte o effetti fino alla fine del damage step. Quindi non può attivare nessuna carta di backroom quando dichiara un attacco. Inoltre, è fortissimo contro Burning Gabby se c'è doll perché nel caso in cui li distrugga, i loro effetti non verranno attivati. Poi abbiamo, anche se non è molto necessario, almeno lo gioco io così, abbiamo il 2x di UA Goalkeeper. È molto forte. Oltre a vantare di un 2800 in difesa, una volta per turno, durante turno all'avversario, evita che uno UA a scelta venga distrutto da effetti di carte o in battaglia. Direttamente dallo sneak di Secret of Eternity, abbiamo il nuovo UA bloccatore, che giocarebbe anche in per due. L'effetto è, durante entrambi i turni, quando l'avversario evoca specialmente uno più mostri, può annullare il loro effetto e metterli in difesa. Perché è potente. Mettiamo che l'avversario giochi Shot Dole ed evochi Window Construct. Le mette in difesa e annulla l'effetto. Ma attenzione, l'effetto non è negato fino alla fine del turno. È negato finché sono sul campo. Ovviamente questa carta, se combinata ad altri due muri, come Ace e Goal Keeper, vi garantiscono una difesa portentosa. E ovviamente dallo sneak di Secret of Eternity non potrebbe mancare anche l'altro UA, UA Playmate. No, no, merda. Ok, via. Come avete visto, c'è un solo mostro di livello 4 e inferiore, quindi ci servono dei tributi facili. Come un esempio è Dissolvitore da battaglia, ci garantisce un tributo e fa terminare la battle phase all'avversario. Utili sono anche Spare Striker, visto che rimuovi una magia e ne evochi uno dalla mano, garantisce un tributo gratis. Warrior Lady of the Wasteland, che si distrutta, evoca o midfielder o Ace dal deck. Oppure la Tour Guide. Come funziona in genere la Tour Guide? Si giocano tre Tour Guide e uno o due Scarm. Con la Tour Guide si evoca Scarm. Si fa M-X Saber invoker, si stacca Scarm per evocare tramite l'effetto della X Saber un mostro di livello 4 terra, guerriero, dal deck. Quindi midfielder. E avendo midfielder in campo possiamo farlo tornare in mano per evocare gli altri UA. Poi ovviamente il 3x di UA Stadium, perché questa carta è veramente potente. Quando evochi normalmente uno UA ti ne fa cerciare un altro e quando due evochi specialmente fa guadagnare a tutti i mostri controlli permanentemente. Quindi anche se vengi sotto lo Stadium l'aumento rimane 500 d'attacco. Ovviamente gli effetti di mettere l'attacco una sola volta per turno. Poi abbiamo anche il 2-3x, anche se io lo gioco in 3 di terraforming. Perché lo Stadium è la carta forse più potente del mazzo insieme a midfielder e ci serve il prima possibile. Al massimo nel caso in cui vi rimanga un terzo Stadium in mano potrete semplicemente scartarlo per l'effetto di Ace. Quindi non è un problema, vabbè ce ne tre, anche se molti lo giocano in per due. Però questa è questione di abitudine, quindi non vi faccio giù la ramanzina se lo giocate in per due. Poi, tripla Tempesta di Monarchi o The Monarch Stormfort, come potete chiamarla. Perché ci aiuta a portare in campo Slugger, Goalkeeper ed Ace. E a togliere anche magari mostri pesanti dal terreno dell'avversario. Dopodiché abbiamo il triplo Reinforcement of the Army. Per cerciare midfielder nel caso in cui ve ne rimangono in mano, perché avete studiato di midfielder, lo scartate per l'effetto di Ace. Vi consiglierei di giocare nello UA anche direttamente da Secret of Eternity, UA, tante che di turnover. Perché sono forse la carta più potente che adesso il mazzo. In che senso? L'acqua attivare è solo se contro le due UA ed è rapida. Fai tornare nel mazzo tutte le carte, mostro, sul terreno di entrami giocatori. Poi ogni giocatore evoca dal mazzo tanti mostri quanti sono ritornati nel main deck. Quindi oltre a stappare il terreno in base alla situazione, se facciamo tornare nell'extra dell'avversario in mostrica sul terreno, lui non evocherà niente perché la carta dice che evoca tanti mostri quanti sono tornati nel main deck. Quindi contro Shuddle o Satellite potrebbe essere veramente forte questa carta. E anche contro i Neigloth, visto che i rituali non possono essere vogliati se non entrami in rituale. Vi dico solo una cosa, non fatelo contro i Clifford o vi ammazzo. O meglio, vi ammazzano loro. Due o tre casacchi potenziate. Io ne gioco sinceramente due perché mi trovo bene, ma c'è chi gioca con tre. Con queste carte puoi fare UTK insieme a Slugger. Perché? Oltre a far guadagnare uno UA in 1000 d'attacco, che non è poco, vi permetterete di distruggere un mostro e di attaccare un'altra volta. E i danni da battaglia che infligge contro i mostri sono raddoppiati. Quindi se l'avversario ha due mostri in attacco con 1200 meno e voi Slugger con la Jersey, avrete vinto. Poi, per scelta, e per contrastare più che altro i mazzi attuali, in gioco il Triunty Grave con lo UA, ovvero Macrocosmo, Soul Drain e Spaccatore Dimensionale. In particolare, Spaccatore Dimensionale è utile contro Shadow e Burning Abyss insieme a Macrocosmo, visto che li rimuove. Macrocosmo, poi, è inoltre utile contro i Pendulum perché, a posto che mandarli nell'extra, li rimuove dal gioco perché riscrive in qualche modo le loro meccaniche. E sempre da Secret of Eternity, un'altra carta che veramente potrebbe diventare potentissima in questo mazzo, ovvero, dispetto degli ignomi. Cosa fa? Ha un effetto simile alla Breakthrough, nel senso, se la utilizzi, puoi poi rimuoverla dal cimitero per utilizzarla. Solamente che questa, a differenza della Breakthrough Skill, la si può usare nel turno in cui la si manda al cimitero. L'effetto è... L'attivi? Quindi, i livelli di mostri nelle mani di entrambi i giocatori diminuiscono di 1. La diminuzione rimane anche quando i mostri vengono evocati in questo turno. In pratica, serve sia a noi e sia a contrastare l'avversario, nel senso, diminuisce di 1 i livelli di mostri nella nostra mano, quindi Slugger ed Ace possono diventare facilmente mostri di livello 4, calabili con niente, e quindi questo ci ha vantaggio al terreno. Inoltre, se l'avversario si sta giocando, che ne so, Burning Abyss o Satellite, ne uscirà profondamente distrutto, perché i mostri che evocano sono di livello 3 per i Telenite, e di livello 2 per i Burning Abyss. Quindi capite bene che è una carta con un certo potenziale. E per oggi è tutto, spero che questi tips vi siano serviti a qualcosa. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete, fate quello che cazzo volete, basta che mi lasciate stare, e ci vediamo alla prossima decklist barra tips per un mazzo a caso. Ciao!